benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video siamo tornati qui con massima difficoltà italica la serie dove con la nostra italia la massima difficoltà invadiamo i vari posti che ci chiederà la nostra nazione dunque sotto lo scorso video sono stato letteralmente bombardato di commenti che mi chiedevano di invadere l'asse quindi non lo farò il video infatti finisce qui e volevi video non finisce qui assolutamente no adesso andiamo a preparare i nostri confini per una guerra contro la francia ma mi ci vorrà del tempo giusto il tempo di deviare un po di truppe qua poi continua la tosse queste truppe le dirigeremo verso cipro e qui ne mettiamo ancora dopodiché qua sotto in italia o meglio in realtà sarebbe in libia ma per noi resta pur sempre italia si recluta bene quindi ne approfitterei per mettere truppe qua sopra io direi approfittiamone finché possiamo perché del domani non v'è certezza ora con queste truppe farei una cosa del genere le porterei piano piano un po tutto al confine così così e così ora qua smezziamo gli eserciti idem qua idem qua tosse a parte idem qua e direi che abbiamo fatto signori stiamo per combattere una guerra a massima difficoltà non possiamo lasciarci sfuggire nulla anche il fatto che qua abbiamo due territori di confine non ci può sfuggire quindi direi massimo impegno per la massima difficoltà italica dunque chi dovremmo attaccare ora nessun altro qua sotto servono delle truppe da sub e delle truppe di rinforzo qua sotto poi direi doppio debitone più che necessario confine qua qua e qua con ulteriore precisazione qua sotto qui qui e infine bu direi ulteriormente qui detto ciò dichiariamo anche noi guerra a tutti gli alleati dichiariamo solo guerra alla francia per ora meglio direi di sì perché per esempio se ora gli chiedessimo la pace saremmo tutti ok quindi si inizia la festa si invade la valletta e si invade cipro si invade la corsica qui vorrei restare un attimino nelle mie posizioni sapete qui si prova a fare un piccolo avanzamento qui rapidamente anzi si cerca di avanzare e qua si prova un avanzamento ulteriore lì dove ho un confine pianeggiante io eviterei di attaccare non vorrei fare mosse troppo avventate ecco perché le uniche mosse rimaste le useremo per attaccare a ovest dalla libia e per prendere perpignan attenzione perché già alcuni territori di mio interesse sono lietamente caduti al che voi vi starete domandando eh ma questa non è la massima difficoltà ho 132.000 truppe reclutate tutte in modo più che legittimo e ne ho già perse 12.700 in una guerra che sarà così tanto lunga che cosa è giusta in effetti cioè l'unica cosa giusta è che io sto combattendo in modo legit non sto imbrogliando come vedete allora direi di avanzare lungo Nizza e Savoia senza strafare di prendere tutto Cipro sempre senza strafare e di avvicinarci verso l'Egitto anche qui senza strafare qua sotto invece continuiamo la presa dei nostri possedimenti senza strafare e avanziamo in Kenya senza strafare senza strafare sarà la parola del video commentatemi con senza strafare vediamo se siete coraggiosi o se siete delle galline perfetto direi di mandare l'ultimo assalto i territori che mi interessava li abbiamo presi tutti un'altra domanda che l'iscritto medio che non segue le serie potrebbe farsi è sì ma i territori non sono ben difesi ragazzi neanche io se non avessi ordito la guerra avrei territori cioè per esempio qua non ho territori qua non ho truppe per attaccare cosa che effettivamente ho sbagliato però ormai lasciamo così avrei dovuto metterle ovvio cioè anche qua che fanno gliele dovevo mettere le truppe ho sbagliato ma non posso avere denaro infinito per avere truppe in ogni luogo in ogni lago come si suol dire quindi portate portate anche un po' di pazienza perché non posso prepararmi due video di guerra comunque la stiamo andando a meraviglia e le 14.000 truppe adesso le farò sbarcare tutte a tutte a Tripoli direi le farei sbarcare anche in altri posti però non mi interessano altri posti quindi andiamo a Tripoli e qua continuiamo la nostra avanzata vi invito ora a vedere come appena gli alleati reagiranno cosa che noi stiamo sbagliando perché stiamo iniziando a dividere le truppe ci assaliranno in un modo bestiale al momento non abbiamo perso truppe perché gli uomini sono disposti bene ma basta che becchiamo già le prime truppe e tutto il nostro sforzo si vanifica quindi intanto qua finiamo la nostra missione la missione 1 la più semplice oserei dire lì si prepara lo sbarco attacchiamo meglio le colonie in effetti non avevo mai preparato un esercito così grande forse per una sola guerra o meglio avevo fatto un esercito una volta di 300.000 uomini ma così diciamo per sfizio non per necessità lì abbiamo finito andiamo di qua di qua e basta ora io per il meme vorrei provare a chiedere una pace ma per il meme tanto la rifiutano perché ci sarà sempre qualcuno che rifiuta a questi a queste in questi casi signori signori una guerra dominata dall'asse mi toccano davvero tante stelline io direi di chiedere l'Italia la Corsica Cipro tutti i possedimenti del corno d'Africa tutto il Kenya che abbiamo conquistato che passa a essere il Kenya orientale italiano una striscia di territori qua poi un po' di territori come Nizza Savoia per aiutare la nostra Italia qua sotto mi basta questo ampliare i nostri possedimenti a sud e poi vabbè potendo chiedere qualcos'altro direi una piccola linea di truppe così qualora dovessero rifiutare cosa abbastanza probabile io me ne frego e vado avanti a loro rischio e pericolo cioè nel senso non è che se poi vinco gli chiedo le stesse cose mi pare giusto o sbaglio ragazzi me ne insegnate voi questo più truppe perdo più uomini muoiono più il paese sarà in crisi più per risanarlo mi serviranno i loro soldi cioè gliela sto dando l'occasione per chiudere a pari e patta se me la rifiutano sono scemi io direi di mandare queste truppe sul fronte dove le rimandiamo? le mandiamo a Roma pronte a essere reindirizzate? che dite? ma si dai le unità che hanno finito le rimandiamo a Roma le chiameremo unità in congedo semi permanente che vi avevo detto ragazzi a parte che stanno arrivando le prime sconfitte e ho dimenticato di prendere un territorio la sotto abbiamo più o meno finito ma ora inizia la resistenza 123.000 truppe vante il nostro esercito la Francia ha invaso Belgio e Olanda e mira dritto al cuore della Francia a Parigi noi possiamo far ricongiungere le nostre unità finalmente possono essere di nuovo vicini i fratelli italiani potrete tornare a gioire perché stiamo per ricongiungervi ad altri fratelli italiani come vedete hanno rifiutato la mia proposta super conveniente e quindi moglie la faccio pagare perché mi prendo tutta la Tunisia in un turno o due dovrei riuscire a prenderla tutta ci spostiamo qua ora vedrete gli mando un altro trattato di prova dopo questo turno dove consolidiamo le nostre posizioni arrivano sconfitte là sotto ma il sud della Francia è tutto preso questa espansione nel giro di pochi turni mi permetterà di chiedere qualcosa di più sensato che sani territori a caso onestamente c'è dell'Egitto non ho che farmene io quindi gli chiedo le isole tutte territori per ricongiungere le coste francesi a questo punto gli chiedo una striscia molto pesante di territori poi tutta la Tunisia che voglio per intero tutti i territori vabbè di qua sotto che già sapete che li volevo più tutto il Kenya basta è che sto un po' troppo mi potreste dire no perché voglio anche ora questi territori qua e con le 30 stelline che mi restano voglio anche questi territori qua io direi che come trattato di pace mi sembra piuttosto equo quindi perché non continuare a infierire potrebbero col tempo urgere rinforzi perché qua abbiamo gran parte dell'esercito bloccata a proposito servono anche rinforzi indietro prima che perdiamo di nuovo tutto e poi soprattutto cosa molto importante che non vi ho detto serve rimettere vicine le unità che si stanno allontanando piano piano cioè le truppe si iniziano a disperdere vedete quando non si usano in modo tranquillo cioè guardate qua ora devo attaccare tutta la Tunisia ma nel frattempo anche l'Algeria cioè vedete quanti truppe servono per combattere una guerra ora loro lì si riprenderanno quasi tutto l'Egitto ma noi ci prendiamo molto altro abbiamo gioinato la guerra al momento giusto per avere quanto più bottino possibile cioè già abbiamo perso 23.000 truppe ma i nazisti ne hanno persi 50.000 se non muoio prima cosa non proprio difficile è che la Germania rifiuta il trattato ancora a questo punto non ho altro da dire agli italiani del del Marocco italiano che in realtà una volta era spagnolo ma hey la Spagna mi ha dichiarato guerra e ora non esiste più che stanno per tornare anche essi a casa perché abbiamo creato una linea di confine stabile col Marocco ci basta solo vincere la battaglia finale direi che qua invece abbiamo da ripristinare le italiche lande poi qua ci sarebbe anche una questione in sospeso chiamata recuperare Israele ma troppe questioni in sospese fanno male quindi lanciamo un ultimo attacco qua e abbiamo fatto attenzione un piccolo buco nelle linee italiane permette ai francesi di penetrare passare e creare scompiglio negli alti ranghi italiani cosa non proprio gradita a sua maestà ciri il grande che decise quindi di punire i francesi in un modo inequivocabile consegnando a ogni francese un bidet in modo che potessero ricordarsi di lui per sempre sarebbe molto bello da fare se potesse fare su edge pagherei anche 50 euro tipo consegni a bidet ai francesi chi non lo farebbe ora distribuite bene le truppe in come si chiama in zona israele comunque medio oriente inizio medio oriente andiamoci a prendere anche qualcos'altro in francia e direi che possiamo quasi pensare di terminare quel video cioè nel senso abbiamo già fatto molte cose oggi cioè queste guerre mi piacciono un sacco guardate direi facciamo così facciamo questo turno completato e poi gli chiediamo una pace se accettano possiamo terminare il video dicendo di aver accettato di aver risolto una guerra con i nemici se si rifiutano invece saranno spacciati guardate qua quanto abbiamo recuperato io adesso come prima cosa aspettiamo ovviamente le invasioni con 23.000 morti l'italia decise di chiedere un'altra pace agli amici alleati amici non troppo visto che gli aveva fregato tutte cose l'italia chiedeva quindi territori del corno d'africa la tunisia la tunisia malta cipro la corsica una folta linea di terre che arrivava a congiungere l'italia col sud col sud della spagna e anche una grandissima zona corrispondente all'attuale algeria più qualche territorio per unirla al marocco queste erano le pretese dell'italia accettandole gli alleati avrebbero consegnato tantissime terre agli italiani ma non abbastanza da potersi ritenere sconfitti per finire gli italiani chiesero soltanto l'ultima cosa il Kenya avrebbero regalato le loro ultime stelline poi avrebbero salvato il gioco e poi avrebbero mandato le ultime truppe a combattere sperando di non aver sbagliato intanto facciamo l'outro quindi il video finisce qui spero vi sia piaciuto mi raccomando lasciate like iscrivetevi attivate la campanella per restare aggiornati e detto ciò noi niente hanno rifiutato ci vediamo dopo aver conquistato tutti i territori del turno di ora con un prossimo video e voilà l'impero romano potremmo chiamarlo anche ok 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 Grazie.